Potenziare la capacità di lettura del bambino dislessico attraverso l'integrazione scolastica degli alunni che vivono questa condizione di disagio con chi non ce l'ha. È l'obiettivo della lettura facilitata, un progetto presentato nell'aulamagna della Scuola Media Rosso di San Secondo dallo psicologo Marco Leonardi. Si tratta di una ricerca sperimentale che ha interessato negli anni scolastici 2012-2013 e 2013-2014 gli alunni delle seconde, terze, quarte e quinte classi delle scuole primarie della provincia di Caltanissetta. Che presentano problemi legati all'apprendimento scolastico. La dislessia è uno di questi particolari disturbi dell'apprendimento che riguarda più precisamente un particolare specifico dominio di abilità quale la lettura, il calcolo e la scrittura. In Italia gli scolari che soffrono di questa disabilità e di altri disturbi specifici dell'apprendimento sono il 34,5% degli alunni delle scuole primarie e secondarie. Il progetto di potenziamento della lettura nasce dopo aver effettuato gli screening nelle scuole. È un secondo importante passo e ha come obiettivo quello di potenziare, di far migliorare la capacità di lettura dei bambini dislessici con diagnosi di dislessia. I bambini svolgeranno delle attività a scuola e in parte a casa dove praticamente al termine, prima e dopo del percorso, si effettuerà una rivalutazione per vedere se i bambini sono migliorati. In due anni di progetto pilota abbiamo fatto delle valutazioni prima, valutazioni oggettive, prima e dopo del potenziamento. Abbiamo riscontrato un miglioramento nella lettura abbastanza importante. Questo miglioramento è stato anche osservato attraverso questionari sia dai genitori, dai bambini e dagli insegnanti, che hanno confermato quello che è emerso dalle valutazioni oggettive. Quest'anno parte in rete, verrà svolto a Caltanissetta, a Catania, a Trapani e addirittura siamo arrivati nelle Marche ad Ancona, con l'obiettivo di ingrantire il più possibile il campione di bambini con disturbo specifico dell'apprendimento, giusto per capire, col campione più grande, avere dei dati più oggettivi e importanti sul cambiamento e sul miglioramento della lettura. L'invito a prendere parte al progetto lettura facilitata non è perciò riservato soltanto alle scuole primarie, ma è steso a tutti gli ordini e gradi scolastici della città che possono ricevere informazioni scrivendo all'indirizzo web info-studio-dsa.it.